Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Ben ritrovati all'appuntamento col meteo di TV6. Una forte perturbazione atlantica ha raggiunto il nord e nelle prossime ore si muoverà anche al centro e al nord-est dove porterà non solo forti temporali anche un graduale calo delle temperature sempre stabili al sud dove registreremo ancora temperature fortemente oltre le medie del periodo. In Abruzzo si prospetta un venerdì complessivamente inestabile quindi avremo un aumento della nuvolosità e anche dell'instabilità quindi possibilità di acquazzoni e temporali soprattutto nei settori interni quindi sulla concaquilana, la marsica, buona parte dell'Abruzzo centrale, l'alto sangro, l'alto vastese, nubi sulle coste con fenomeni più probabili nel corso della sera seppur molto deboli e disorganizzati. Le temperature in marcato calo avremo massime tra i 28 e i 32 gradi, minime tra 18 e 26 gradi. Con questo è tutto grazie per essere stati con noi e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.